Perugino storico, quindi i baracconi, insomma, fanno parte dell'INA del Perugino. Perché sempre la tradizione che si rinnova, bello tutto. All'epoca c'erano le giostre che si potevano fare all'epoca, adesso tutto si è rinnovato. Però ogni volta che vengo c'è l'emozione di rivivere i baracconi quando eravamo ragazzini. Taglio del nastro per i baracconi, che quest'anno compiano 100 anni. L'immancabile appuntamento perugino per la gioia di adulti e piccini che durerà fino al 12 novembre. È una collaborazione meravigliosa e sono certo che regalerà ai nostri amici, ai più piccini in particolar modo, delle giornate meravigliose. Per festeggiare 100 anni, una mostra fotografica ad ingresso libero, di foto storiche raccolte dalla comunità di Perugia.